Questi allievi hanno corso da riforma, hanno lavorato un anno. E' la prima volta che il corso natoriale si esibisce in pubblico. Accogliamo voi un grande applauso e il nostro indizino Erba. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il segno superfavorito di oggi. Amore. Solida sfiga. Lavoro. Anche oggi uscirete vivi dalla scuola. Solida. Troverete per strada il cinese. Influenza strana. Marta vi costringerà a fare una doppia su nessuno. Sì. 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 Il nuovo operatore che elimina la paura da doppia Un flacone al giorno, tutti i giorni Brava, tensione, privido Nel nuovo film di mio consiglio La doppia di Paola Prossimamente al cinema e su YouTube Attenzione! Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi l'evento di studio Questa sera, magari la società di un'amica Paola Porelli Che sarà la camisa doppia Il questore comunica che la situazione è sotto controllo E sono già stati allargati i pompieri e la protezione civile Grazie! 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 Grazie!